Porte aperte in 24 cantine del Basso Garda per la diciottesima edizione di Profumi di Mosto, itinerario enogastronomico dedicato al mondo delle aziende vinicole che si è tenuto domenica 13 ottobre con partenza da Villa Galnica, sede del consorzio Valtenesi situata a Pognago del Garda. I visitatori hanno potuto vedere dal vivo sette cantine, scegliendo ognuno dei quattro percorsi predisposti dagli organizzatori, giri omogenei che hanno spaziato tra entroterra e riviera, nel triangolo compreso tra Pognago, Vedizole e Pozzolengo, consentendo di degustare uno o due vini per ogni azienda produttrice e sconfinando anche nella zona di produzione del Lugana. Allora la manifestazione questa mattina è partita con molto entusiasmo, abbiamo visto parecchi visitatori venire già qui in Villa Galnica, la casa del vino della Valtenesi e da quel che so sono molto frequentate anche le cantine, quindi per noi è una bella soddisfazione. Il tempo anche quest'anno ci ha incredibilmente aiutato e quindi speriamo che tutti i ragazzi e i visitatori che sono in giro possano godersi la giornata e degustare i nostri vini. Allora Profumi di Mosto è una manifestazione che in Valtenesi si fa da 18 edizioni, questa è la diciottesima edizione ed è una bellissima giornata che raccoglie più di 20 aziende che aprono le loro cantine per far visitare le aziende, per far assaggiare i vini abbinati a degli assaggi di piatti fatti da degli chef molto bravi del territorio. Noi la facciamo fin dalla prima edizione, anzi abbiamo contribuito in qualche modo a lanciare questa iniziativa e oggi presentiamo all'interno della manifestazione Profumi di Mosto una bellissima installazione che credo si possa vedere alle mie spalle che si chiama Quarta Dimensione e racconta il tempo, cioè appunto la quarta dimensione, che è senza dubbio all'interno del mondo del vino uno degli elementi più importanti e fondamentali. Allora qui da noi in Pasini San Giovanni i visitatori vengono accolti all'ingresso della cantina, gli raccontiamo per sommi capi il significato dell'installazione Quarta Dimensione, poi gli illustriamo i piatti che fa il Palazzo Hotel Villa Cortine che è associato alla nostra azienda Pasini San Giovanni insieme ai vini che ci sono in degustazione. All'interno di questo percorso i nostri visitatori oltre a poter assaggiare i due vini principali della giornata che per noi sono il Val Tenesi Rosa Green che è un vino rosa e l'Arzane che è un vino rosso entrambi fatti con l'uva groppello, i visitatori diciamo possono anche assaggiare altri vini prodotti dall'azienda con la stessa denominazione Val Tenesi. Quindi diciamo che è una giornata in cui venendo da noi e visitando tutte le altre cantine che ci sono all'interno dei singoli percorsi il visitatore si può fare un'idea molto precisa, molto ricca e molto approfondita di tutta la produzione che c'è in Val Tenesi ovvero sulla sponda bresciana del lago di Garda.